Perché a febbraio Putin ha pensato di poter invadere l'Ucraina senza trovare troppa resistenza e di vincerla facilmente? E che cos'è la denazificazione che aveva in mente e di cui ha parlato? E perché gli ucraini hanno trovato la forza di resistere e almeno finora di battere i russi sul campo, qualcosa di cui nessuno pensava possibile? Il libro cerca di rispondere a queste domande, ripercorrendo le tappe principali seguite dai due stati dopo l'indipendenza del 1992, ma anche riprendendo il peso del passato sovietico in ognuno di essi, quello della tragica carestia del 32-33 per l'Ucraina o dalla lettura della vittoria nella seconda guerra mondiale come vittoria di un progetto imperiale oppressivo invece che di resistenza al nazismo nel caso russo. Tratta dell'ideologia di Putin, ma anche del ruolo e del peso della questione religiosa e della lingua. Affronta soprattutto come il passato sovietico abbia giocato un ruolo negativo ma anche positivo, per esempio nel determinare una scelta ucraina a favore di una costituzione che facesse di tutti gli ucraini, anche i russofoni, cittadini del nuovo Stato. La guerra naturalmente farà il suo corso, ma il libro, credo, riesce a spiegare perché sta andando così e anche a dar conto della resistenza crescente degli ucraini e delle difficoltà crescenti di Putin.